La città di Aswan 80% lavora per il turismo, capito? Adesso non c'è turismo, prima della guerra c'è Non c'è tanto turismo qua, non solo italiani, anche tedeschi, francesi, anche inglesi, anche spagnoli, tanti clienti, adesso non come prima, sono difficili, dicono una cosa, il problema adesso è la riga di Aswan qua, anche a Luxor, non c'è tanti clienti come prima, mare rosso, piano piano, sì, meglio. Il problema qua in Egitto non c'è tanti clienti come prima, prima si lavora bene e guadagna bene, c'è dei soldi di combattere a mangiare la casa, la luce, così si guadagna per un mese, capito? Adesso non c'è niente, non come prima, prima si sta bene, lavoro bene, anche guadagna bene, tutto è perso, adesso non c'è turismo come prima. Il problema adesso in Egitto è la televisione, quando c'è un problema in Egitto, sono piccolo, ho visto la televisione, sei grande, è vero? Tu hai visto la televisione in Italia, c'è un grande problema in Egitto, ma non è venuta qua, lì, anche io, quando c'è, io ho andato in vacanza in Italia, quando c'è problema in Italia, io mi ho andato in Italia. Il problema qua in Egitto è la televisione. A Mubarak, a Mubarak di prima, la vita se sta bene, non è sta bene, sta bene. In Baraka anche, non è brava, in generale, a Morsi, a Morsi, anche se ci penso altra cosa, io non voglio così. A Morsi è la Sisi, la Sisi che sta da adesso, sono bravissimo, non come le dico, le dico, le dico, le dico, i ragazzi sono bravissimi. Io mi piace di lui. Anche in Egitto, se è piano piano, è meglio, non come prima, ma anche di più. Speriamo. Sembra e spera. Eh sì, insha Allah. Insha Allah, ha detto.